Pronto? Pronto? Scusa Scusa Ho messo di mezza piotta Va benissimo Ok ok dai Ciao Cristoro e benvenuti in un nuovo video Allora oggi siamo qui Per fare un video ask Tutti insieme Oltretutto questa è solo la mia parte Perchè poi ci saranno altre domande Anche più scomode e anche più fighe nel suo canale Quindi vi lascio il link in descrizione del predo E niente Questo però non è un video ask come al solito Perchè ci piace tanto complicarci la vita E' un video ask dove A ogni domanda che rispondiamo Andiamo a mangiare un peperoncino Ora, piccano Io sento già l'odore Quindi, ecco Lui si spreca tu Lui è pronto con il pane Lui è pronto con l'acqua Perchè mi daremo Pronto? Perchè sti scemi Ehm, vi ho chiesto di farvi le domande Sul gruppo delle tesorine Una domanda Faresti un altro figlio? No Ma prima devi mangiare e poi rispondere Porca doga Io l'ho preso uno rosso come la morte Ci siamo? Mamma Mamma il pane Che schifo Mi piace Hahahaha Ragazzi, allora ci ho fatta Ehm, vi piace Ma è la lingua Raga, ragazzi sono abituato Ragazzi sono abituato Questa è.. Questa è la garalpia Questa è la garalpia No, ma basta con il pane No, non pareva più come i cristiani Non basta Ma non è vero Sta piangendo Lui è quello che ha detto prima Ah, ragazza, non posso anche io dire io lo senti, io piccante, no? Però io sono govorenti No, io l'ho detto Allora Pezzo di c***a No, no, no Ora lo mangi Io l'ho fatta a passo, me lo volevo tenere qua Due No, uno, uno No, uno, due no Stira su queste mani, no? No, mastica Non stiamo tirando No, no, no Stira su sta mano Fai così, tra No, non fai così Capisci che brucia? Mezza tra, come mi fa provare Comunque mi piacerebbe avere altri figli in futuro, sì? Non so se ci riuscimmo però dopo sta cosa A me piacerebbe con la persona giusta A me piacerebbe se sopravvio Vai No, io non mangio nient'altro No, io non mangio nient'altro, regà Dai, vai No, picco troppo, pizza Pizza proprio A me fa male tutta sta macchina E' un mozzico dall'altra parte Preferite dolce o salato? Eh, Dio Preferisco, preferisco Salato Dolce Sai cosa mi aderisco? No Questa dolce droga No, no, ce la faccio No, non ce la faccio Regà io questo non l'ho sentito Regà io questo non l'ho sentito Hai masticato? Sì Non ci riesco No No, regà io ce l'ho fatta No, regà io ce l'ho fatta No No, però se ce l'hai fatta te ce la faccio io Ah, un po' Ah, me non pesate il pane Ah, mamma non c'è No, no, no Regà è tutto carbo del terreno qui No Il signore mio pastore No, a me è andato giù bene No No, mi è andato proprio giù bene Mi auguro Un po' bene Facciamo un'ultima domanda e basta No, minimo 5 Minimo 5 tua madre No, che male la mamma sta a casa Ma non è che non ti ho mangiato molto questo No, non l'ho mangiato soltanto Tu e Ale, avete in mente di scusarvi un giorno? Beh, direi di mangiare tanta volta Quando vi siete conosciuti tu hai freddo e in quale occasione? Allora, qua Allora, questa è lunga Io ho trovato No, questa è una domanda vostra No, no, è un drogato No, tossicato Poggialo Oh Ma è un drogato Uno Come vi siete conosciuti allora? Allora, non la conosci Ah Allora, non la conosci Allora, non la conosci Ah Allora, non la conosci Allora, vediamo E praticamente Io, io stavo lì E c'era E c'era anche una persona Conosciuti però io non sapevo chi fossero io E lei non sapeva chi sono io E poi Se mi mette in una stanza E' tutta rossa Non è vero nera Oh Così sembra brutto Fratomo E' tipo un cuore e due ci facciano amici Oh Dio Ah Ehm Fratomo vuol dire che è brutto Ehm Loro dovevano dire qualcosa Però io non c'entravo niente Poi Poi No No la lingua La lingua La lingua mi sta fatta male Quella parla No 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 la lingua mi sta fatta male A me è qua Io sono il mio diverso A me è la bocca Adesso può morire C'ho il sottolingua che sta dicendo Al resto della bocca Ma l'altra voce A me è la lingua No Oddio mi è passato Bada mi è passato Bada mi è passato Io sono a posto Come ti siete conosciuti A me non ho ben capito Stavate in questa sala No Ma è comunque una storia commovente State piangendo in tanti Ehm Biazza non sta bene la moglie A me si è rivolta prima Non passa Eh Ah non passa Perché non passa Ah Gia Dai come stai siamo conosciuti Che è un po' Allora A lavoro A lavoro ci siamo conosciuti A Cine città Ehm Praticamente Io ho visto sto roscio Io stavo con un altro roscio E ho detto un mazzo a due rosci Però c'è il più bello Il roscio Se vuoi un primo roscio E poi La stagione del tetto Eh Madore o colo gelato E qua Prendo sempre Le gusti Comun colo gelato E io ho la curazione E io lo spaventisco qua Perché mi ha dato male Ah Ah Ha passato tutto Perché ha passato tutto Il roscio è magico Oh Buona idea Non parla Eh quindi ci siamo conosciuti A lavoro Sì Vedete Ora la storia è molto più chiara E che ti ha detto Ci chiamo che essi dubito a parlare Dubito ad andare di simpatia Vada Io Non sapevo chi fosse Non sapevo chi potesse Però Pall'anno fine ci siamo rincontrati Alla relazione social Dove Mi hai fatto C'ha la piacere Ce l'hiamo visti E lei È molto tiglio Ok comunque La parliamo insieme E lei Però Però Tu Eh Regà Guarda che è così Portagliella Regà sta una scaletta Oh cavolo La regà La regà La regà passa l'effetto Poi cazzo Passa l'effetto Che io continuo a bruciare No Questa è una favola Ma lui è fissato Se non si è come se ne è piena Questa maschetta che cazzo ha detto La maschetta porta io Ma l'hai visto a me la tua casa Mi sta sciogli Mi sta sciogli Sto sciogliando Questa è come si sveglia No io basta No è finito qui Non è fattibile A parte che sono finiti Con i piccoli A parte che è finita la mia voglia Quindi sono solo quelli grandi Io quelli grandi non lo mangio Se noi piangiamo Con questi modesti Pezza con quello pizzellone piccantone Io ho preso questi re Tu No Per te Per te No 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 L'ultima Il video è dopo E' vero Lo scaio No stai male No E poi si stai magari alla batteria Riga adesso muore tranquilli Si sta anche sgariando la batteria Io non mi alzo a camera Sputali Sputali subito Sputali subito Sputali qua Spiccia Chiara sputali Ti do un pugno in pancia dopo le sputali Chiara sputali muori 3 2 3 No che vuoi fare? C'è l'inizio Cosa? 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 Comentispi oleh A糞 Alty Coment Fai Fai guarda che sono comodo ti aiuterà questo bambini le missioni eccoli i pezzi di chi parlavamo quelli 3 pezzi questo video ovviamente è stato fatto solo per ridere scherzare tutti insieme non provate a rifarlo a casa soprattutto se siete piccolini perchè comunque i peperocini possono fare male possono fare davvero male quindi mi raccomando non lo fate perchè può veramente farvi del male alla salute quindi non lo fate ha sempre bisogno di un libro non provate a farlo ci manca solo che fai do it io devo anestetizzare una parte di bocca ma che ha 3 pezzi ma sono 3 pezzi in realtà ho 4 ora però ho 3 mezza piotta eccola questa è mezza piotta questa è mezza questa è mezza bella tiè mezza bella la voglio questi si mi raccomando andate al canale del predo perchè c'è la contina di questo ma in modo un pochino più naturale però con delle belle domande e invece per quanto riguarda il mio dolce amore sta per aprire un nuovo canale quindi andatelo a seguire perchè parlare di cose fighe quindi saranno dei video veramente fighi quindi vi lascio sempre il link sotto la descrizione per andare a iscrivervi e farvi fare un bel botto prima che inizi ovviamente non c'entra niente col mio canale quindi sul suo canale aspettatevi cose proprio completamente diverse dai posso testimoni che sono veramente carine e piccolosi forte forte è un bel canale che sta mettendo su aspetta yeah quindi mi sta lasciando perchè pa questo è adie è stato bello un video davanti a voi domani giuro che uscirà un video che come al solito sarà più normale con me e con Lara tranquilla sto in modo sto tornando a casa ogni 6 a casa noi vi diamo insieme te lo ricordo dicevo che domani uscirà un video normale quindi non vi preoccupate e soprattutto ogni tanto lasciatemi tipo un po' di momenti di cazzaraggine che sto sempre bene no mega pelli no 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 vabbè ciao